MA di 60 anni, residente a Tornolo, è la vittima del terribile incidente accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla superstrada nel tratto compreso Taostia, Parmense e Borgotaro, in località Macagnana. Un camion e un'auto, per cause ancora da chiarire, sono entrati in collisione fra loro. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio l'uomo al volante dell'automobile, una Seat Leone. Troppo gravi le ferite riportate, a nulla sono valsi gli immediati soccorsi e gli sforzi dei miriti dell'assistenza pubblica e dei vigili del fuoco di Borgotaro. L'uomo è deceduto poco dopo. Il sinistro ha bloccato il traffico da e per Parma per diverso tempo. Code si sono formate in entrambi i sensi. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Borgotaro, mentre i militari della forestale hanno allestito un posto di blocco all'imbocco della superstrada all'ingresso del capoluogo valterese per avvisare gli automobilisti dell'interruzione stradale e segnalare vie alternative. La notizia della scomparsa del sessantenne ha destato grande cordoglio in Alta Valtaro, dove l'uomo era molto conosciuto. Ai carabinieri spetterà ora ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che purtroppo vede piangere un'altra vita persa sull'asfalto.